Una foto, John! Lo specchio ti mostra il volto. Ma l'arte... ti mostra l'anima. La Marilyn Rosa. Mio padre me l'ha promessa e voglio riaverla. Lo consegno e poi me ne vado. Sì. Ti sei convinto di essere così potente da fingerti ripulito e aver aperto una galleria? Date al Corriere un benvenuto. Dov'è? Polizia! È autentica? Per me potrebbe averlo fatto uno di cinque anni, ma voglio la fetta maggiore. Sono io che l'ho trovato. Non abbiamo un futuro, John. Ho un piano. Gli uomini hanno il bisogno di creare arte. Non per gioco. Non per caso. Ma perché... che dobbiamo. Hai mai rinunciato a tutto per qualcuno? Darò loro quello che vogliono. Oh no.